questa è una connessione dove voglio di carta a tre veli del colore lilla e con qui c'è l'unicorno e vari scritti in in inglese più un diamante in tutto sono vendi sembra di là da un tag e anche se ne si vede un po male c'è l'acco baleno qui è l'acco baleno e c'è un po di contro luce perché questi non li non li apro adesso per quella con baleno e qui di nuovo e qui di nuovo la parte dritta della di questi dovalioni questo è lui è l'unicorno grazie